Back in ETV Benvenuti a tutti qui Balcon ETV Trento, io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dalla splendida terrazza del Rifugio Bindesi. Qua sotto di noi abbiamo Trento e qui su questo terrazzo siamo in compagnia dei Fucsia che ci presentano il loro brano Improve. Buon ascolto. Grazie per la visione 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 Wow ragazzi complimenti Grazie Simone parlaci un po' del progetto Fucsia Fucsia è un side project ed è composto da me e da Paolo Brugnara alla batteria. Suoniamo insieme da circa 5 anni e in questi anni sono usciti due EP, 2 is better 2013 e l'anno scorso Lazy Electrons. Su Lazy Electrons si può trovare il pezzo che abbiamo appena suonato Improve. Perfetto. 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 E 2017 per voi è un anno di progetti? Perfetto. Perfetto. Quindi ragazzi possiamo trovare tutto il vostro materiale sul web? Sì, i video su YouTube ma su tutte le altre piattaforme streaming, l'EP intero Ok, quindi Spotify A partire da Spotify e da tutti gli altri Siete su Facebook? Siamo su Facebook, è la nostra casa madre Esatto, non vi manca niente Bene ragazzi, non so se volete aggiungere qualcos'altro Beh, forse ringraziare l'area PPM Onlus, Fabrizio e Stefano Grazie Simone, grazie Paolo Noi vi ringraziamo, ringraziamo Ifucsia Ringraziamo Sorgente 90 Ringraziamo Balcony TV International che ci dà questa opportunità Ringraziamo Rifugio Bindesi Vi salutiamo, vi invitiamo a seguire i nostri video E le nostre piattaforme social di Balcony TV Grazie e come al solito Stay with us